Napoli, 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 quei ragazzi della curva P Napoli, 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 tutti solo diciamo siamo qui Buongiorno a tutti, è sempre Forza Napoli e buona domenica a tutti voi da parte mia e del mio gruppo tutti pazzi con i ciuccelli e l'azzurro Pinuccio, mi dici una cosa a Pinuccio Pinuccio, stanno proprio maltrattando sti voglio ma niente di meno, tu hai capito che lo fa ma dici solo uno commento, lo tuoi allora guarda la differenza, che si dica una cosa posso stare tranquillo e se la dici tu si può stare tranquillo ma no perché non perché tu managgierisci non sei libero di rifare la tua squadra no Pinuccio, è diverso questo è diverso perché ognuno di noi ognuno di noi si può poti fare chiudere però come fai tu? è scatenata una guerra ma stai da tutta parte Pinuccio, in tavasco lo bagno con la merda ind poi chi li può mi mettere sulla mia bagheca mi tengono aggiornati i miei amici azzurri allora ci sono andato a stare in due ceresi mi dà cerizzo andavo a fare due idee poi stavo così chiedendo a me la parte tu stai ripetendo allora tu hai già la reputazione aperta perchè stai ripetendo i bambini bambini di vikingo e vikingo canocco poi giustamente ti sei anche esposto a fare queste cose e ti hai condannato la vita poi mi hanno mandato mi hanno mandato un sono sempre sulla mia bagheca mi hanno mandato quello che tu hai scritto che ti minacciano e varie cose del genere no, questo non si fa no, no, non si fa ma poi ti dico una cosa Pinuccio ti chiamano Pinuccio perchè Pinuccio è così Pinoccio ma non ti preoccupa nessuno ti minaccia il napoletano sono allergico a merda non ti preoccupa non ti tocca perchè perchè il napoletano a merda non vanno a toccare lo calpesta perciò Pinuccio Pinuccio hai fatto vuoi ma sai che fa per te fa per tu no è andato elegante come ti ha fatto reggisla che ha detto vai scornacciato come parli tu no che scende la coppa tu scendi dalla stalla prima levo le testate però ho capito che tu sei un viking e viene dalla stalla perchè i viking la stanno vikingone questo sei tu allora tu mossa che fa beh le fanno tu viti come che la do e dice ragazzi io sono una luta sono un vikingo mi schifo su lì voglio morire e forse vanno la soluzione di tutti i napoletani e secondo me la tutti i napoletani devono bene ma solo a questo devo rimediare perchè se no se oggi hai già visto la foto che sta andando cessa la capuzione che riesce a fare un cardolice poi da una maschera ci viene tanto e stai sempre tu caga per la foto ma non giustamente capite chi più ne ha addirittura ma vedi tu ciasi così però vedi non mi fai fare una fotografica che cosa o anche un bidonale che dice che va fuori no questo no io venuto a raccomare fanno un bello video e dice che hai gannato di te hai gannato di squadra ci ami solo a così ti puoi far perdonare ti puoi far perdonare se no è passato l'urdo vuoi la vita tu ancora una cosa perché gli metti in guardia cerchi che vai aiutare perché è stata in difficoltà mentale giustamente ti dà a merda non potete capire la cervella ti fa poco fatica andare a merda non vuoi involgere anche gli altri hai visto certi foto poco più particolari metteteci solo tu a inda perché se no la reputazione la fai perdurare la famiglia tua e quello che sia non si fa non si fa la merda è solo tu però ti avviso venuto ti raccomando fanno un bello video e dici che noi ci amiamo non ho di più no io sono grommi non mi merda sono loro per scrivere sulle richieste e vedi con me la pulita la donna ok lo dà a me che sta fa poi io ho detto a cuocere cuocere hai già capito tu quello che fa un ballerì e manca quello sai fa però manca quello sai fa però quello può fa perché c'ha un bel movimento di anca mi piace solo quello può fa un ballerì se no dai e fa sulla panchita che la fa voglia la vita ci ha voluto bene ma ora purtroppo non è andata a merda non è andata a fare tanziglie ma è scaduta in due mi è scaduta dal cuore cosa che non mi aspettavo da te davvero napoletano ma poi non si napoletano non si castellammà tutto rispetto perché ho gli amici di castellammà però tu sei l'altro perché hai avuto là dì poi dici puro fa un'altra cosa la nuve non è in veriore a nessuno e nemmeno il bar città voglio rimanere da sti briocchi diciamo voglio guarda che ti perdoniamo perché con un bicchiere di vino ce lo facciamo tutto qua chi c'è poco che c'è con un bicchiere di vino ce lo facciamo tutto ma ti raccomando voglio che c'è sti briocchi sti briocchi tu ok allora se sti briocchi si perdono perché se non sti briocchi allora veramente è perso proprio il punto perché se non è inferiore a nessuno nemmeno il barcello allora qua è rica a tutte le scuole dove voglio vengono perché è fuori si sottacite cammere da coppia a poverità guagliare guagliare non ti bevo vini ti voglio be ti voglio be ma non ti bevo vengono sempre è solo forza napoli sempre comunque dovuto perché tutto resto è sempre munnezzo a giù ciao belli